Iniziamo il nostro punto basket della settimana realizzato sulle immagini che state vedendo di Ospedaletti Vado Under 14 giocata a martedì alla palestra Isnart offrendo alla prima pagina la copertina alla palacanestro Imperia che ha ottenuto due grandi vittorie. La prima anche per ordine di importanza in C2 in casa contro il Cus Genova vinta appunto la partita per 94-82 dopo un tempo supplementare. La squadra del capoluogo dopo un inizio di stagione quasi disastroso ha così ottenuto la sua seconda vittoria contro questa volta una squadra di alta classifica grazie al rendimento di tutto il team che ha portato ben cinque giocatori in doppia cifra. Se per Imperia lo spettro della retrocessione così si allontana Ospedaletti invece non riesce a schiodarsi da quota zero dopo la sconfitta per 99-83 subita contro il Granarolo. In serie di turno interlocutorio per l'Olimpia Arma di Taggia che vince 74-63 contro il modesto Cap Genova e mantiene così saldamente la testa della classifica anche grazie ai 35 punti realizzati da De Benedetto. Dietro l'Olimpia a punteggio pieno restano ancora appaiate con due punti di distacco Ameglia e Alassio appunto a quota 12. Un'altra squadra della nostra provincia al comando del girone A di promozione è la Rarinantes Bordighera Ranabò con otto punti in quattro partite. Ranabò che ha vinto in trasferta 69-55 contro lo Juveniglia mentre fatica invece il Ventimiglia nello stesso campionato ad uscire dalle zone basse della graduatoria. E passiamo così ai campionati giovanili iniziando con l'Under 19 di eccellenza dove registriamo la netta vittoria di Ospedaletti 86-50 contro Granarolo. Gli Orange 35 punti per Rossi si confermano al terzo posto mentre invece Imperia purtroppo ha perso contro il BK Team. Nel girone A sempre Under 19 Bordighera esce battuto 89-71 dal campo dell'Atena e rimane così con due punti in carniere. L'altro colpaccio della settimana per Imperia arriva dal campionato Under 17 di eccellenza con la sofferta ed in attesa vittoria casalinga 74-71 contro una vera e propria corazzata del girone. Il BK Pool 2000 che rimane comunque al secondo posto in classifica con 12 punti mentre l'Imperia così sale a quota 8 e archivia anche i 23 punti realizzati da Di Masi. L'Olimpia arma fermo per riposo invece ancora alla ricerca dei suoi primi punti in questo stesso campionato. Nell'Under 17 girone A rinviati i match di Ventimiglia Sanremo e Ospedaletti vince l'altra squadra di Imperia 67-60 a Cairo Montenotte con i 23 punti di La Cava e i 20 di Mozzo. In classifica punteggio pieno dopo tre partite restano comunque Ospedaletti e Sanremo. Sanremo che ha osservato il suo turno di riposo anche nel difficile Under 15 Open e rimane con il bottino di 4 punti. Nel girone B Under 15 Imperia ha conquistato i suoi primi punti sbarazzandosi facilmente di un Ospedaletti rimaneggiato e che rimane al secondo posto con 8 punti. Ospedaletti ha poi giocato ieri sera all'infrasettimanale ed ha di nuovo perso 81-50 in trasferta con il scuola basket di Savona. E veniamo così all'Under 14 girone B con le immagini che ci hanno accompagnato per questo servizio e che faranno contenti i giovani dell'Ospedaletti che nell'anticipo della quinta giornata martedì sera in casa hanno vinto 107 a 64 contro il Vado. E questa è la seconda vittoria consecutiva degli Orange con più di 100 punti all'attivo. Il match precedente avevano infatti vinto a Bordighera 105 a 57 e restano nella scia del BVC Sanremo che si è praticamente allenato con l'Albenga superata 97 a 24 grazie anche ai 28 punti di Soave e i 22 di Ferrua. Chiudiamo con l'Under 13 alla seconda giornata. Sanremo ha vinto fuori casa 41 a 28 contro Alassio grazie anche ai 15 punti di Tacconi mentre il Sibasket Sanremo ha perso ad Albenga 71 a 25. Il Sibasket però di coach Mauro Bonino ha invece vinto a Diano Marina nel campionato esordienti per 73 a 12.